o basta riparte eh lo so lo so che qui era un filetto di merda prima però altra parte sembra cagatante di gorgorot era il bar del Montegliaro e non è stata te ora si va in su Italia io sono sbagliato a prendere un caffè grosso le petit test va a fare un cuore ciò che mi ha fatto è tutto a pari andiamo vediamo se riesce fuori un video decente stavolta trovi duro perché si venga uguale ma guarda è sola è sola oh si Ave Maria Ave Maria Mater Dei è singolo non mi faccio comandare a chi non piace specialmente la donna è una bugiarda e fascista Dillo sei fascista o no? Dillo facci di merda avete tutti i coglioni a Sssssssssssssssssxssssssss ilIES c aqueles che vuoi non è non d'esplosio a ником madonna accident Accidenta! Accidenta chi t'ha caso! Non si ferma più eh! Mi fai giù a un go! Non so fare il back smash, quello l'ho mostrato a crew. Sta faccia da mestru... Eh! 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 Guarda lì il bracino! Eh eh! L'ho ancora nata appena al quadrato! Sta faccia da mestruazioni! Mi l'hai nascosto, c'è la moneta! Eh? Mi l'hai nascosto! Vedi? Sembra che c'abbia altre mestruazioni! C'ha il ciclo! L'hanno coperto da mestruazioni! Sentrà anche che ci sono fatti di lei questi rossi! Ma fai moviti! Il cassone lo fai moviti! Guarda me lo guardo! Guarda me si! Fatta a botte! Tutto tutto! Ma dai, mi fai proprio dei tasti invece! Questa è la di password ragazzi! Gi-zu-cane... Chiocio non hai meno! La password no ha Chiocio... Che c'è la scema! Ragazzi... sta vignata? Ma... E' possibile fare un video decente con te o... All'incontrare... Ma c'ha la falce? E' la morte! E' la Belli! Attento eh! Vai via! Andiamo su! Nunquan! Di sotto! Di sotto! No! Vaffanculo! Basta! D'accordo!